Ed eccoci finalmente alla quinta edizione del TG Sonocchi, una raccolta delle ultime notizie e curiosità dal Giappone. Per festeggiare l'arrivo di Halloween a Tokyo dal 24 ottobre al 16 novembre sarà possibile prenotare un taxi a tema Sadako, la famosissima ragazza fantasma del film The Ring. Per celebrare il ritorno al cinema di Sadako, con il prossimo film Horror Sadako Dix, grazie alla collaborazione con l'applicazione giapponese di chiamata Taxi S-Ride, sarà possibile salire su uno dei 50 terrificanti taxi a tema. Dopo la prenotazione sull'app, specificando di voler prenotare un Sadako taxi, apparirà un messaggio inquietante per tenerti compagnia durante l'attesa, riconoscerai il mezzo dal display esterno che mostra la ragazza fantasma. Per i più coraggiosi, all'interno sarà possibile vivere un'esperienza di AR, realtà aumentata, grazie all'app e al monitor interno per passeggeri. Beh, che dire, buon viaggio! Vicino al parco di divertimenti Universal Studios Japan di Osaka, in Giappone, un addetto alle pulizie ha rinvenuto un teschio nascosto in un cespuglio. Oltre alle numerose attrazioni, il parco è famoso per gli eventi horror allestiti per Halloween, perciò all'inizio sembrava una trovata pubblicitaria. Ma dopo le analisi la polizia ha confermato trattarsi di ossa umane, più precisamente quelle di un uomo di età compresa tra i 60 e 79 anni, alto circa 158 cm e deceduto da circa due anni. Purtroppo questo giro sembra proprio non si tratti di uno scherzetto. E tra uno spavento e l'altro, cosa c'è di meglio di un bel giro in beerbike? A Yokohama e a Onomici è possibile fare un bel giro in compagnia su una speciale bicicletta barolandese, capace di ospitare ben 16 persone, le quali, mentre pedalano, possono ammirare il panorama e luoghi unici degustando della buona birra. Con il tour di Onomici è possibile visitare luoghi come il quartiere di divertimenti Shingai che risale al periodo Edo, per poi visitare il birrificio di Onomici e alla cetaia più antica della città. Buona pedalata e alla salute! In Giappone sono popolarissimi i combini, dei mini market aperti 24 ore su 24, ma se vuoi provare un'esperienza unica, dovrai recarti a Shimukappo, nell'isola di Hokkaido. Trovandosi nella parte più a nord del Giappone, le temperature possono raggiungere i meno 30 gradi sotto lo zero. Per questo la catena Seiko Mart ha ben pensato di allestire un combini interamente ricavato nel ghiaccio. Qui potrai dissetarti con delle bibite fresche e assaggiare dell'ottimo yogurt gelato servito su piatti di ghiaccio, così da rinfrescarti dopo una giornata trascorsa a sciare. Il primo novembre 2022 apre il Ghibli Park, il parco dove è possibile immergersi nelle fantastiche atmosfere dei capolavori d'animazione dello studio Ghibli. Si trova all'interno del parco commemorativo dell'Expo 2005 di Aichi nella città di Nagakute, vicino a Nagoya, a circa tre ore di treno da Tokyo. Al momento dell'inaugurazione saranno presenti tre delle cinque attrazioni previste, distribuite in ampie aree all'aperto, in linea con l'importanza della natura trasmesse nelle opere dello studio Ghibli. Scommetto che sarà una bella esperienza, non vedo l'ora di visitarlo. E anche per oggi è tutto, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella, così non perderai le ultime curiosità dal Giappone. Un saluto da Sonocci! Grazie!